Avete mai pensato di creare team building all'interno delle vostre aziende utilizzando il ballo? Sì, può sembrare strano, lo so, è vero. Eppure il ballo in tutte le sue forme permette di acquisire consapevolezza di se stessi, del proprio corpo e crea una sinergia tra le persone coinvolte favorendo l'aggregazione e il lavoro di squadra. Per la realizzazione di una coreografia di gruppo è fondamentale oltre che porre molta attenzione a se stessi anche concentrarsi sulle persone che abbiamo al nostro fianco. Il gruppo che si viene a formare permette di andare oltre ai ruoli che ci sono all'interno dell'azienda portando tutti insieme a lavorare ad un unico obiettivo, la performance finale. Può sembrare strano, lo so, è vero. Però vi posso assicurare che tutto questo si può realizzare in pochissimo tempo. Non ci credete? Guardate! 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 Sì Un dia dico che non hai altro che sì Io sono un asochista Io ti chiedo anche non ti chieda Non è puro, puro chantare Puro, puro chantare Non si chieda